Allora il nome di questo corso che abbiamo dato è la meditazione per vivere in armonia con se stessi, quando diciamo di armonia giustamente sappiamo che in armonia non si va con uno solo, ci sono armonia, ci deve essere almeno due per poter essere armonioso, giusto? Allora noi che siamo fatti da tre elementi corpo, mente, lo spirito, quando portiamo in armonia questi tre, possiamo meditare. Invito tutti a provare questa pratica molto antica che hanno praticato tutti i nostri antenati e sapevano l'efficacia di questa pratica che non richiede niente, non richiede bravura, non richiede istruzioni, non richiede niente tranne una voglia di conoscere se stesso. Una voglia di conoscere se stesso, voglio conoscermi perché sono nato in questo mondo, in questo periodo, in questa situazione. Quando sappiamo questo potremo già individuare l'obiettivo della propria vita e poi tenere corpo, mente, lo spirito in armonia per indirizzare verso quegli obiettivi. Una pratica dura tutta la vita, non è una pratica di un corso di sette lezioni serali. In sette lezioni serali semplicemente cerchiamo di capire un po' con il nostro cervello, con i nostri dei ruoli che hanno la capacità limitata. E poi, quando riusciremo a tenere presente questo, cerchiamo di procedere verso l'obiettivo. Vi invito ancora, ogni mercoledì alle 8 di sera facciamo qui la pratica di meditazione gratuitamente. La meditazione ha, come si dice, un diritto umano di nascita. Solo gli esseri umani può meditare. Altri esseri viventi non ce la fanno perché sono impediti. Sapete, unici esseri viventi in questo mondo che hanno la colonna vertebrale verticale, quali sono? Sono gli esseri umani. Non esistono altri esseri viventi che hanno la colonna vertebrale verticale. C'è un motivo, non è per caso. E questo è il motivo di cui dobbiamo iniziare a fare un po' di pratica di meditazione. Grazie per l'ascolto.